A Radio Speranza siamo con Rosanna Gagliano, un saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio e da tutti noi appunto di Radio Speranza. Rosanna Gagliano che è membro dell'ufficio dell'equipe di Occiana per le vocazioni. Ecco, Rosanna, giovedì prossimo ci sarà una vegna proprio di preghiera per le vocazioni. Qual è lo spirito di questa iniziativa? Abbiamo invitato i nostri cari amici, diciamo tutta la diocesi a vivere questo momento all'insegna della comunione e soprattutto rispondendo a quello che è l'invito di Gesù che ci chiede di pregare per le vocazioni. Questa è la seconda edizione della nuova equipe vocazionale e grazie all'aiuto veramente alla partecipazione di tanti sacerdoti e anche di tanti laici presenti nelle parrocchie abbiamo la possibilità di vivere questi momenti a livello ecclesiale. Proprio ieri sera abbiamo avuto un momento di preghiera nella zona foraniale di Penne, in modo particolare nella chiesa della Madonna del Carmelo a Loreto e lì abbiamo già vissuto un'esperienza comunionale perché abbiamo appunto pregato per le vocazioni. Invece ecco la veglia cittadina sarà quella di Pescara, in particolare nella parrocchia San Gabriele della Dolorata, il 14 aprile alle ore 21. Quindi è un invito che rivolgiamo a tutti a partecipare per chi può avvenire ma anche a partecipare attraverso la preghiera. Perché? Perché è importante che come chiesa, quindi come battezzati insieme, chiediamo al Signore di donarci le vocazioni, le vocazioni di speciale consacrazione ma anche una consapevolezza maggiore nelle singole vocazioni, anche la vocazione al matrimonio. E' importante ricordare che la nostra vita è una chiamata, che il Signore ci chiama alla pienezza, ci chiama alla gioia, alla felicità, ci chiama alla santità. E forse non dobbiamo mai stancarci di ripetere questa chiamata e di fare in modo che ciascun battezzato riconosca di essere prezioso, amato agli occhi di Dio. Quindi ecco, il desiderio è questo che noi possiamo pregare insieme in questo momento all'insegna del tema. Il tema è quello della gratitudine, in modo particolare il titolo è Ricco di misericordia, ricchi di grazie. Quindi in questa preghiera saremo chiamati un po' a rispolverare, a riscoprire, a ricordare la bellezza della nostra vita voluta come sogno di Dio. E quindi a esprimere il nostro grazie a questo Dio che ci ama in molti modi e in modo particolare donando se stesso. Ecco, Rosanna, tu sei un'oblata, fai parte del movimento Pro Sanctitate, no? Si diceva della gratitudine. Questo sentimento oggi è poco, possiamo dire, poco diffuso purtroppo. Qual è la tua gratitudine personale? Dico questo, che è molto bello vivere il servizio alla Chiesa, perché soprattutto attraverso il servizio, attraverso la donazione agli altri, è possibile, almeno io faccio questa esperienza, riscopro la bellezza della mia vocazione e quindi il dono che il Signore mi ha fatto. La gratitudine, come dicevi tu, quindi vorrei partire da questo, è sicuramente una dimensione della vita difficile da praticare per noi tutti, perché siamo più portati a lamentarci, a vedere ciò che non va. Invece, ecco, forse anche in quest'anno giubilare, in quest'anno in cui ci viene proposto proprio di porre l'attenzione sulla gratitudine a Dio per la sua misericordia, anche a livello personale ho la possibilità, soprattutto a livello personale, di riscoprire la bellezza della mia chiamata, della mia risposta a Dio come consacrata, quindi come oblata apostolica prosantitate. Che cosa significa questo? Sicuramente è un esercizio all'ascolto, al rimanere nel cuore di Dio, al percepire la bellezza delle cose che Lui mi dona e ci dona, perché è più facile rifugiarsi nelle tenebre, nel buio, nelle cose che non vanno. Quindi, anche a livello personale, questo è un cammino che mi aiuta proprio ad alleggerirmi da tutte quelle pesantezze, che sono anche preoccupazioni giuste, importanti, ma che non sono il cuore, cioè quello che è la volontà di Dio. E la volontà di Dio è che io mi possa rifugiare nel suo cuore, mi possa addentrare nelle sue profondità, per dissetarmi del suo amore. E quindi possiamo dire che, insomma, anche questa iniziativa di preghiera serve un po' a dissetarci un po' tutti quanti di questo amore. Sì, assolutamente. La preghiera è sicuramente un tassello fondamentale della nostra giornata. Credo, almeno a livello personale, che è l'intonazione, ma anche la struttura ossea della mia giornata. Ma ognuno di noi, come batteggiato, potrà dire lo stesso. Ogni laico deve fare, può e deve avere la possibilità di vivere la sua esperienza di unione con Dio, perché la preghiera è il respiro della nostra anima, è il contatto con la presenza di Dio nella nostra vita, nelle cose che facciamo. Senza la preghiera, ecco, almeno io personalmente perdo proprio il senso, è della mia vita e delle cose che faccio. Un po' l'affanno, l'ansia che ciascuno di noi vive, forse viene causato dalla mancanza di preghiera. Quindi pregare insieme è un sintomo, prima di tutto, di comunione, di convergenza. Ed è il motivo per cui invitiamo la partecipazione, perché ci sia questo segno visibile di avvicinamento, di costruzione insieme della Chiesa. Ma pregare è innanzitutto dedicare quel tempo dovuto a Dio, quel tempo che tante volte invece sottraiamo, rubiamo. Quindi proprio lo facciamo insieme, perché forse facendole insieme troviamo la possibilità di pregare. Però ecco, è un segno, un'occasione per ricordarci che dobbiamo coltivare costantemente questa dimensione, questa esperienza nella nostra vita quotidiana. E allora, grazie Rosanna. Ripetiamo l'appuntamento per giovedì alle 21. Dove? A San Gabriele della Dolorata. Quindi siamo tutti invitati a partecipare, anche da casa, chi può pregare con noi perché appunto il Signore ci conceda nuove sante vocazioni nella Chiesa e perché ogni vocazione riacquisti la sua originaria bellezza e ciascuno di noi possa vivere in quella contentezza e gratitudine che Dio vuole. Grazie e buona preghiera. Grazie, grazie a te e a voi.